A Ligea Stadium i padroni di casa cercano punti salvezza per uscire da una zona deficitare di classifica. La stella vuol proseguire il proprio trend che la proietta in questa fase di stagione tra le vere rivelazioni del torneo. Anche se a Di Ribero la formazione ospite special inizio si addormenta permettendo a Ligea di trovare i gol di vantaggio già al sesto. Quando da rimessa laterale Miema riceve palle e serve Marchini che sotto nessuna firma il vantaggio bianco-rosso. La stella inizia a svegliarsi, Greco sprone i suoi, appoggia per Fabri, qui tiro risulta una chiamata per Berardi. Lo stesso Berardi deve ripeterci quando la distanza Cicchetti insidia alla porta con una conclusione angolata ma che il portiere sventa in corner. La stella insiste nel forcing offensivo, Garzia serve nuovamente Cicchetti, numero 5 riceve palla dopo che la difesa dell'Igea rivia proprio sui suoi piedi ma la sua conclusione è centrale. Quando la squadra produce ma si sbilancia è inevitabile prendere gol. Sintesi perfetta quando tutti ci chiedono come Miema possa trovarsi solo, dalla metà campo proprio arriva questo lancio a pescare l'aria avversa. Solo Soletto la mette dentro facendo cullare l'idea dei tre punti alla propria squadra. Bocchini a questo punto sale di gran carriera, la sua sventola viene respinta in tuffo da Gamberini ma sul più bello l'Igea subisce. Da calcio d'angolo Cicchetti riapre il match colpendo di testa perfettamente indirizzando il pallone alla sinistra di Berardi. 1-2 il parziale. La stella a questo punto prima della chiusura del primo tempo inizia a credere nell'impresa. Il pallone viene alzato a campanile dopo essere stato messo al centro dell'area di rigore sulla sfera si getta Gabellini che di testa centra l'incrocio dei pali. Dall'altra parte Bocchini esegue Coppi in colla dell'azione precedente. Gamberini si fa trovare pronto. Nella ripresa dopo 15 minuti di noia pura da calcio di punizione la stella prova a rendersi pericoloso ma il pericolo in verità è uguale allo zero. Mentre dall'altra parte Mema conclude a lato provando il tiro da fuori aria. Ma al diciannovesimo la stella perviene al pareggio. Da calcio di punizione battuto da Cicchetti Venturi appoggia involontariamente la sfera di testa sui piedi dell'avversario il quale sfogna al centro. Un invitante assist per la spettacolare acrobazia di Gabellini che vale il 2-2 meritato per quanto prodotto potremmo dire via i festeggiamenti con i compagni. Ci prova a questo punto i due occasioni in noi entrati in maglia numero 17 Gamberini per la stella ma niente da fare. Entrambi i tentativi risultano centrali. A fotofinici la stella rischia il sorpasso. Da punizione di Cicchetti nasce una carambola fortunata che porta alla concursione a botta sicura il numero 7 Gabellini. Con il portiere di casa Berardi che si traveste da Mago Merlino facendo sparire il pallone prendendo ciò che in fisica è impossibile. Parata salva risultato. 2-2 il finale ma il rammarico maggiore arriva dalla parte ospite. Per l'Igea buona la prima mezz'ora di gioco poi i soliti difetti e errori che stanno condizionando il proprio campionato. alla ricerca dunque della felicità perduta.